E adesso, cari signori, in questa canzone a Gabriele c'è una ragazza che è la figlia che fa il compleanno, stavolta non vuole soldi a pagare questa ragazza, ma qualcosa di più va bene, ci dice la mamma, mamma oh mamma bella, dai un amico, compio dei danni, che mi fai un regalo più bello, compra pure un uccello più grande, signori dobbiamo applaudire adesso perché a Mori Alcantara, che capicino comunque, l'uccello più grande ce l'ha proprio Gabriele, grazie a tutti